La cappa è un elettrodomestico fondamentale in cucina. La sua funzione principale consiste nel migliorare la qualità dell'aria, eliminando i fumi della combustione, i cattivi odori e i vapori della cottura, dannosi sia per l'organismo che per mobili e pareti. Per questo, scegliendo una cappa, dobbiamo assicurarci che garantisca un'aspirazione adeguata, una fonte di luce e efficace, un design in linea con i nostri gusti, una buona usabilità e silenziosità. La cappa è l'oggetto capace da solo di definire e arredare i nostri spazi. Per questo motivo è importante trovare il modello che più si adatta al nostro ambiente. Molteplici, infatti, sono le possibilità di installazione. A parete. La cappa viene installata a parete quando la cucina è posizionata contro la parete con il piano cottura in adiacenza al muro. A isola. La cappa viene installata a soffitto quando la cucina è posizionata a centro stanza con il piano cottura distante dal muro. Ad angolo. La cucina è sviluppata tra due pareti della stanza e il piano cottura è posizionato a ridosso dell'angolo. In questo caso, la cappa viene installata tra le pareti adiacenti. A incasso. Quando il piano cottura è posizionato sotto un pensile, la cappa viene installata all'interno dello stesso. La cappa deve avere anche un'adeguata capacità di aspirazione per ottenere il giusto ricambio dell'aria e un minor consumo di energia elettrica. Per una famiglia poco numerosa o per chi cucina pasti veloci è sufficiente un modello fino a 450 metri cubi all'ora. Per chi cucina spesso, ha molti amici o ha una famiglia numerosa, la potenza di aspirazione dovrà essere maggiore di 500 metri cubi all'ora. Il perfetto funzionamento della nostra cappa è assicurato da una corretta installazione, garantita da personale specializzato. Il montaggio e la manutenzione variano in base alle due tipologie di cappa. Tutti i modelli elica sono predisposti per lavorare in entrambe le versioni. La cappa aspirante espelle l'aria all'esterno dell'abitazione. È la tipologia più diffusa in quanto garantisce elevate prestazioni, alta portata e bassa rumorosità. La cappa filtrante sottrae i cattivi odori con il filtro odori e reimmette l'aria nell'ambiente cucina. Questa tipologia è adatta in situazioni prive del foro di evacuazione e permette un risparmio climatico evitando dispersioni verso l'esterno. Prima di procedere all'installazione della cappa bisogna conoscere alcune semplici regole di base. Seguire tutte le indicazioni elencate nel libretto di istruzioni del prodotto. Le dimensioni della tubazione della cappa aspirante, la distanza minima dal piano cottura, la posizione della presa elettrica. Per assicurare la lunga durata e il corretto funzionamento della nostra cappa, il primo passo è mantenere in ottimo stato il sistema di filtraggio, costituito da due tipologie di filtri. Il filtro a grassi protegge la cappa trattenendo le particelle di grasso e richiede una pulizia periodica a mano o in lavastoviglie. Il filtro odori a carboni attivi cattura e trattiene le particelle odorose dell'aria e va sostituito ogni 3-4 mesi. Altre piccole accortezze ci aiuteranno a mantenere sana ed efficiente la nostra cappa. Accendiamo la cappa alla prima velocità a inizio cottura, aumentando l'aspirazione nel momento in cui c'è la maggiore produzione di fumo e odori. Provvediamo regola alla pulizia interna ed esterna della cappa. Chiudiamo le finestre quando la cappa è in funzione. Spegniamo la cappa quando nel caminetto abbiamo il fuoco acceso. In caso di guasti rivolgiamoci sempre a tecnici qualificati. Le cappe elica hanno molti plus, permettono di avere un design esclusivo, vivere nel rispetto per l'ambiente grazie al risparmio energetico, incrementare il nostro benessere grazie alla massima silenziosità e a sistemi user friendly. Fra le innovative soluzioni tecnologiche c'è l'EDS3, elica Deep Silence, che rende le cappe estremamente silenziose, addirittura impercettibili alle basse velocità. Riduce il rumore di oltre il 35% rispetto alle cappe tradizionali. Synergy è invece il sistema aspirante che rispetta l'ambiente. Riduce del 50% il consumo di energia elettrica. Fornisce un controllo elettronico intelligente che mette le potenzialità del motore al nostro servizio. La qualità di ogni modello è garantita dall'arte tecnica dei progettisti e dalla perizia di tanti operai. Vengono effettuati inoltre numerosi test e controlli di qualità per verificare sia caratteristiche tecniche come efficienza d'aspirazione, sicurezza elettrica e livello sonoro, sia caratteristiche di design come qualità funzionali, estetiche e di packaging. L'attenzione al prodotto prosegue nella distribuzione fino alla consegna nelle case di tutto il mondo. Elica infatti oggi ti dà la possibilità di prolungare la garanzia del tuo prodotto attraverso pacchetti di servizi pensati su misura per te. Naviga il sito internet per scegliere la tua cappa. Elica è aria nuova.